Abbiamo ascoltato oggi le parole all'audizione del ministro Mogherini pronunciate sull'Ucraina. Condividiamo la preoccupazione di un rischio di un escalation, di una crisi che può portare l'Europa dentro un meccanismo infernale di corsa al riarmo, di nuova stagione di deterrenza e dei rischi addirittura di una guerra fredda. Noi siamo convinti che questa crisi non si risolva in ambito Nato, come la stessa ministra Mogherini ha detto. Si risolve soltanto se si riprende il filo del dialogo, del confronto. Putin con la scelta di annettere la Crimea all'indomani di un referendum dubbio sul terreno della legalità ha indubbiamente offerto una forzatura alla comunità internazionale. Tuttavia anche l'approssimazione con cui si è gestita da parte di molti paesi la transizione politica in Ucraina all'indomani e alla caduta di Yanukovic ha prodotto ulteriori elementi di destabilizzazione. Noi pensiamo che la strada sia quella di un'azione diplomatica a 360 gradi che metta al centro una soluzione per l'Ucraina che non può essere tirata all'interno dell'alleanza atlantica dopo vent'anni di espansione molto forte ad est e deve essere dichiarata come un paese neutrale, un vicinetto tra est e ovest sul modello finlandese come tante voci anche importanti, autorevoli di diverso orientamento politico da Kissinger a Romano Prodi hanno proposto. Un paese che può avere una doppia associazione con l'Unione Europea così come con l'Unione doganale eurasiatica, un paese a cavallo tra due aree geopolitiche ben definite. Noi pensiamo che questa soluzione debba essere perseguita con grande forza evitando diciamo ulteriori scivolamenti pericolosi per il mondo.